Abbiamo raggiunto un grandissimo risultato, vorrei ringraziare tutto il Consiglio regionale, la maggioranza in maniera particolare perché abbiamo approvato nell'ultima seduta il piano di maniale marittimo regionale, uno strumento di gestione del nostro arenire molto importante, molto atteso da parte degli enti locali, i comuni, l'associazione dei balneatori, ma anche le associazioni ambientaliste, tanti portatori di interesse che avevano atteso tanti anni prima dell'approvazione definitiva. Voglio ringraziare il Presidente della Terza Commissione Berardinetti, gli uffici di maniera regionale che hanno lavorato con dedizione e con passione e tanta professionalità e abbiamo condiviso un testo preparato dalla vecchia amministrazione regionale, quindi in particolar modo dall'assessore di Dalmazio che ringrazio, modificato e arricchito dalla nuova giunta regionale. Ringrazio tutti per questo lavoro corale molto atteso dagli enti locali e dalle associazioni in maniera particolare. Devono gestire i loro piani di utilizzo dell'arenile, devono modificare i loro piani tenuto presente il piano di maniale marittimo, però è un'indicazione di massima molto importante che sicuramente darà sviluppo ulteriore crescita con l'utilizzo, voglio sottolinearlo, di materiali di bioarchitettura. Ci sarà una razionalizzazione delle strutture balneare con l'utilizzo, voglio sottolinearlo, di strumenti a bassissimo impatto ambientale, quindi di bioarchitettura, con l'affidamento di aree protette alle associazioni ambientalisti, quindi un utilizzo assolutamente sostenibile del nostro arenile, una migliore gestione dal punto di vista burocratico delle pratiche relative all'utilizzo e soprattutto una conformazione alla normativa europea.